La Fiera di Morciano La Fiera di San Gregorio 28 anni, 28 anni di storia Nella mostra del cavallo a Morciano di Romagna Le Fiera di San Gregorio sono anche questo Dopo il teatro, la musica, il cinema Di tanti momenti ludici A Morciano di Romagna E di conseguenza anche il suo spettacolo Quello degli Arasola Applaudire La Fiera di San Gregorio E di una donna Dalle tue mie appassionata Andrea Giammi A tutti voi, splendide donne A tutti voi, meravigliose Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Si va a cercare il ciclo, si infine alla lancia perché questa è una disciplina che trae le sue origini nella storia, nella storia anche medievale, quelle che sono le preparazioni di Giovanni Cavalieri e bravissimo Michele Vidi, oggi di Cavalieri. Grazie a tutti. 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 Giulia Parmigiani. Entrare a tutti. Grazie a tutti. No, grande. Grazie a tutti. , a tutti. Grazie 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 a tutti.